Hai mai pensato di avere la tua camera matrimoniale in una suite mazzardata? Abbonate sopra c'è. Tutto studiato nei minimi particolari, il calore delle travi, la luminosità di due lucernari. C'è anche una sala da bagno dedicata e un angolo cabina armadio disegnato appositamente per sottare tutto lo spazio disponibile. E non è finito qui. Andiamo al piondi sotto. E qui. Ci troviamo al piano primo di questo appartamento in villetta con ingresso indipendente. E guardate la zona limite. Da questa parte sono salotto con un altro balcone che sarà illuminato la mattina. Tutti gli infizi sono in PVC dotati di blanche ariene, riscaldamento autonomo con poca di calore. E da questa parte abbiamo le altre camere. Una comoda singola che affaccia sul balconcino un comodo bagno con doccia. E un'altra camera singola che affaccia sul balcone posteriore. Questo terrazzo guarda estro e ha delle dimensioni facilmente vivibili. Perché no? Vuoi fare una fantastica dirviata? E questo è il secondo terrazzo. E se nel proverigio ci sarà tanto solo, sei tranquillo. C'è la tenda da sola elettrica. Pensi che sia finita qui? Assolutamente no. Guarda che cosa c'è. Un fantastico giardino. Questo è un giardino di proprietà. E da questa parte puoi andare nella tua lavanderia e nel tuo box doppio in lunghezza. È un appartamento con bassissime spese condominiali. Circa 30 euro al mese. Vuoi sapere il prezzo? Prova a indovinarlo nei commenti. Grazie. Grazie.